Saviatano e Roditis sono due vitigni che potrebbero non dirvi molto, ma sono i vitigni principali utilizzati nella produzione di Rezzina. Rezzina è un vino antichissimo ma dal gusto estremamente moderno e contemporaneo. Siamo in Grecia, dobbiamo tenere bene a mente che questo è forse il primo territorio di vinificazione all'interno del bacino del Mediterraneo. Qui in antichità si andava a utilizzare la resina di pino per cercare di creare una sorta di patina che proteggesse il vino sia in fermentazione che dopo all'interno delle anfore, quindi non permetteva quell'ossidazione che avrebbe fatto deperire il vino molto rapidamente. Ovviamente i greci notarono che andava a conferire anche un certo tipo di aromaticità, sia al gusto che al naso. Questa stessa tecnica, questa stessa pratica è stata portata alla modernità, quindi viene utilizzata tuttora, ma piuttosto che andare necessariamente a lavorare sull'anfora, si tende anche a lavorare direttamente sul mosto o sulla fermentazione, quindi si va ad aggiungere la resina di pino, in questo caso spesso e volentieri è pino d'Aleppo, perché la moderna conoscenza di quelle che sono gli aspetti e gli spettri aromatici ha portato a individuare in questa resina il partner perfetto per andare a fare questo tipo di vino. Quindi si fa questo vino che avrà un sentore estremamente dolce, ma anche resinato e fresco al naso e al palato si tradurrà in qualcosa di avvolgente, di ampio, ma dotato comunque di una discreta freschezza e quindi abbastanza equilibrato. Il gusto non è semplicissimo ed immediato. Questo tipo di vino lo possiamo facilmente abbinare a dei formaggi, possiamo anche servirlo a temperature più basse per incontrare un mood più estivo.